Cari amici, la febbre non ce l'ho più e quindi probabilmente questo virus l'ho sconfitto come me, tantissime persone lo sconfiggono con la tachipirina, stando a casa come è successo a me, per 3-4 giorni di febbre e non più di quello. Ma non vi voglio rompere le scatole per questa comunicazione da grande fratello, molti di voi mi hanno chiesto come stavo, quindi mi è sembrato giusto dirlo. Io vi chiedo e voglio fare un appello, vedo che tutti fanno gli appelli, miliardari che hanno preso tanti soldi con i loro cachet possono stare a casa per dire e fare degli appelli e ovviamente fanno bene perché tutti noi li seguiamo, io ho seguito fantastiche trasmissioni su Instagram, su Facebook, eccetera, però io vorrei fare un appello molto ma molto concreto, non le solite minchiate retoriche. L'appello concreto è esattamente questo, siccome il problema di questo virus riguarda la Lombardia, riguarda in particolare coloro che vanno in terapia intensiva, riguarda la mancanza di ventilatori in terapia intensiva e di ospedali in terapia intensiva, io faccio un appello solo, concreto, questi cialtroni che ci governano a Roma e che accompagliano sempre là in televisione, commissari, subcommissari, protezione civile, per quale cazzo di motivo ancora non permettono alla regione Lombardia e alla fiera di Milano che sono pronti di fare un ospedale da 400 persone al posto della vecchia fiera. È tutto pronto! Uno dice, esiste un'emergenza, le nostre libertà sono state violate, le nostre comunicazioni sono completamente cambiate, le nostre quarantene sono da paese in emergenza, tranne che su una cosa, la costruzione di un ospedale che è l'unica cosa indispensabile di cui oggi abbiamo bisogno. Siccome in questo momento non ve lo dicono, ma ve lo dico io, perché ci ho parlato con quelli che stanno progettando quell'ospedale, in due giorni l'hanno già progettato e si può fare, e i soldi ci sono, il problema è l'ostilità di Roma. Allora, siccome c'è questo sistema di Roma nel fare l'ospedale alla fiera di Milano, a me mi vengono i brividi, questi ci fanno finta di fare le opere coraggiose, dice la Lamorgese, meno questioni coraggiose, meno violazioni della libertà, permettete a Milano di avere un ospedale eccezionale da 500 persone, fatto in tempi più ridotti rispetto a quello che ci mettono i ginesi, perché noi abbiamo insegnato al mondo come si costruiscono gli ospedali, la Lombardia ne ha costruiti moltissimi, ha già tutto progettato, se non un cazzo di via libera da Roma. Voi dite, sta esagerando? No, non sto esagerando, perché io penso che questo sia una brutta influenza, che però per alcune persone è la fine, è la morte, se non hanno l'ospedalizzazione adeguata. E siccome il focolaio sta avvenendo in Lombardia, permettiamo alla Lombardia di derogare a tutte quante le norme e farsi il suo ospedale, sarebbe la cosa più semplice. Poi facciamo gli hashtag, io sto a casa, io non sto a casa, io penso al futuro, io sto a un metro di distanza, chi cazzo se ne frega! Io posso anche stare a 50 centimetri di distanza, a me il virus dopo tre giorni se ne è andato via. Io voglio un ospedale per quelli che non ce la fanno, e quelli che muoiono come non dovrebbero, la regione più ricca d'Italia. Difficile da realizzare? No, soltanto se a Roma, invece di pensare a fare le conferenze stampa alle 23, pensano di aiutare questo Paese a riprendersi. Ciao!